E' l'immigrazione il tema caldo della terza giornata della festa del quotidiano nazionale Avvenire in programma a Matera dal 26 fino al prossimo 30 giugno Più che di tema attuale dunque è più giusto definire la questione immigrazione come una vera e propria emergenza con risvolti molteplici e delicati che vanno dalla qualità dell'accoglienza alla collaborazione istituzionale e internazionale dalle questioni di natura etica fino alle infiltrazioni malavitose nel traffico di esseri umani a bordo di imbarcazioni improbabili Su questo tema sono state molto chiare le parole del Cardinal Bassetti il presidente della conferenza episcopale italiana che ha detto Dall'accoglienza dei migranti passa la cultura della vita la politica chiamata a trovare la soluzione migliore La legge sulla cittadinanza in discussione in Parlamento non può finire su un binario morto perché la Chiesa è in prima linea da molto tempo ha detto ancora Bassetti non certo da oggi senza bisogno di riflettori e di prime pagine per favorire una politica di integrazione che vada nell'interesse di tutti dei migranti e di chi accoglie nell'interesse di tutti lo voglio sottolineare con forza ha ribadito ancora Bassetti Ciò che sta a cuore alla comunità ecclesiale deve essere riferimento per l'intera società è l'uomo integrale che si manifesta in ogni istante della vita nel concepimento e nella nascita nella scuola e nel lavoro nelle migrazioni e nella morte osserva il presidente della CEI e potremo andare avanti ancora con altri mille esempi per dire solo una cosa banale che oggi però merita di essere urlata a squarciagola la cultura della vita detto Bassetti va difesa sempre e così dunque come dicevamo su questo tema si sono confrontati a Matera autorevoli esponenti di primo piano dai quali abbiamo raccolto qualche testimonianza a cominciare proprio dal presidente della comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo Nel complesso sistema dell'accoglienza sembra un paradosso ma le regioni più accoglienti sono proprio quelle del Mezzogiorno come se lo spiega questo? Il Mezzogiorno d'Italia è toccato geograficamente dalla questione delle migrazioni proprio per la sua collocazione dalla Sicilia, la Calabria, la Puglia però ha mostrato il Mezzogiorno una capacità di apertura veramente straordinaria nonostante la crisi economica che attanaglia tante parti di questi territori io credo che ci sia una tradizione di accoglienza di queste terre che va al di là di ogni crisi c'è una predicazione cristiana che ha toccato il cuore di molte persone e c'è un'apertura di spirito che fa sì che realmente si sia solidali È inutile dire che il tema dell'immigrazione non è solo di attualità ma è una vera e propria emergenza soprattutto in questi giorni Secondo lei perché la politica fa tanta fatica a elaborare una risposta efficace e in che modo forse la pressione dell'opinione pubblica incide anche in questo? Ma il problema è che la questione migratoria è sempre trattata in maniera rapsodica episodica e purtroppo con caratteri elettoralistici Ogni elezione il tema diciamo di fondo resta migranti sì, migranti no Noi dobbiamo avere la capacità di vedere questi fenomeni che sono fenomeni ormai epocali perché il ventunesimo secolo sarà il secolo delle migrazioni, lo è già e dobbiamo vederli con una certa prospettiva e credo che ci sono due linee particolari su cui bisognerebbe muoversi La prima è quella dell'integrazione In Italia stiamo ancora facendo troppo poco sul tema dell'integrazione La seconda è quella di lavorare nei paesi di provenienza di queste persone Sono due piste che l'attuale governo ha cominciato a portare avanti ma certo sono questioni che durano anni Dicevamo della strettissima attualità del tema della immigrazione Ebbene i numeri sono impietosi Pensate che soltanto in questa settimana sono oltre 10.000 gli immigrati che stanno giungendo sulle coste italiane In totale sono 73.380 i migranti smarcati in Italia dall'inizio dell'anno Un numero che segna un aumento del 14,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno I minori non accompagnati pensate un po' sono oltre 9.000 Su questo tema è intervenuto dal Canada dove è in visita istituzionale anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che ha detto l'Italia è in prima linea per salvare migliaia di vite umane nell'ambito di un fenomeno epocale e ciò accade ai confini dell'Europa senza ancora suscitare nel nostro continente né un'adeguata consapevolezza né l'emergere di sensibilità sufficientemente condivise necessario preludio di incisive azioni comuni e sull'argomento immigrazione abbiamo raccolto anche la testimonianza di chi quotidianamente lavora per offrire un adeguato servizio di accoglienza ai migranti Perché la politica finge di unirsi ma poi si divide sempre su questo tema dell'immigrazione? Beh, intendiamoci questo è il tema più complicato in assoluto perché l'immigrazione riguarda la questione della diversità il diverso, la paura del diverso fa parte dall'inizio della storia dell'uomo di una delle caratteristiche principali con le quali la persona tratta il rapporto con gli altri quindi io non mi scandalizzo che sia un elemento complicato e divisivo mi scandalizzo quando chi ha responsabilità ai vari livelli non gestisce come si dovrebbe gestire quindi cercando di trovare soluzioni transizioni far capire non impaurire quando invece attorno a questo tema si fa di tutto per creare paure paure anche superiori eccessive rispetto alla sostanza della questione si fa un danno e non si riesce non si creano le condizioni perché si risolve il problema il problema ci sono sono tutti molto complicati oggi la mobilità è uno dei fattori più forti della vita e quindi bisogna saper convivere per saper convivere bisogna saper gestire questi passaggi così complicati forse non c'è la giusta consapevolezza che non si tratta di un fenomeno transitorio ma epocale un fenomeno che durerà a lungo e se non ci si rende conto che per gestirlo c'è bisogno di regole di strutture e non semplicemente così di appelli o di strumentalizzazioni perché poi il problema tornerà se non è fra un mese fra due mesi fra sei mesi quindi o lo si affronta in modo strutturale oppure non funziona parliamo di un tema delicato e importante l'immigrazione secondo lei perché i ripetuti appelli dell'Italia all'Europa a collaborare di più cadono puntualmente nel vuoto? vede intanto lei ha detto immigrazione tolga lì ma migrazioni cioè fenomeni millenari di massa l'Europa non ha mai considerato questi temi con serietà ricordo nel 2001 abbiamo proposto se vai a comprare un paio di scarpe in un negozio e il negozio è nel volontariato in Africa allora l'Europa rinuncia a un pezzettino di IVA che viene destinato all'Africa aiutiamoli a casa loro l'Europa l'ha sempre rifiutato ha sempre negato il fenomeno va detto che anche l'Italia ha sempre negato tutto questo considerava questi fenomeni come non esistenti non rilevanti anzi era un aiuto e non un problema e siamo qua e anche il crollo delle classi dirigenti europee e italiane siccome Google non perdona vai a vedere quello che hanno detto o non detto l'anno scorso due anni fa tre o quattro anni fa questi qua soluzioni? le ho detto per esempio aiutarli a casa loro cioè dire un pezzettino di quello che è l'IVA che vede l'Europa qualche volta dà i soldi all'Africa di solito tornano o nei conti svizzeri dei dittatori o in armamenti se usi il volontariato coinvolge il volontariato un euro qua vale un euro in Africa vale enormemente di più questa è un'ipotesi è una proposta fatta 20 anni fa forse 20 anni fa era un po' più efficace di adesso oggi è un'occasione di confronto importante sul tema della immigrazione un tema assolutamente complesso un tema di emergenza qual è il punto di vista in qualità sia di operatore che quotidianamente ha a che fare con il tema dell'accoglienza sia come espressione di una realtà associativa come Giovane Europa aperta ai valori appunto della diversità innanzitutto vorrei precisare che non è proprio un'emergenza perché siamo di fronte a un fenomeno a una tragedia che il Santo Padre ha definito Papa Francesco ha definito la più grande tragedia dopo la seconda guerra mondiale quindi quello che sta accadendo era prevedibile facilmente prevedibile quindi bisognava affrontarlo non considerandolo un'emergenza poi l'incontro di stasera abbiamo voluto Enrico Letta perché l'operazione Mare Nostrum è stata forse l'operazione più seria che il governo italiano ha messo in campo per aiutare per in qualche modo cercare di salvare vite umane e poi Marco Impagliazzo Marco Impagliazzo perché i corridoi umanitari questa grandissima operazione che la comunità di Sant'Egidio e la CEI hanno messo in campo è forse la risposta migliore e adeguata per affrontare il problema per salvare vite umane proprio oggi oggi altre notizie di oltre 100 morti nel deserto il Mediterraneo è diventato purtroppo un cimitero e questo una società civile non può permetterselo l'Europa deve affrontare il problema trovando le soluzioni come ha detto ieri per esempio il procuratore Gratteri andando nei paesi da dove queste persone partono aiutandoli nel paese da dove partono certo ci sono alcune situazioni come la Siria eccetera dove solo i corridoi umanitari possono mettere in salvo le persone che scappano dalla guerra Giovane Europa appunto in questo senso offre un contributo costruttivo noi sono ed alcuni anni che diciamo che il fenomeno è un fenomeno che va affrontato con una visione europea non può essere d'Italia lasciata da sola ad affrontare un'emergenza che come dicevamo prima è mondiale siamo di fronte a 200 milioni di persone che si spostano da una parte all'altra del mondo 60 milioni di persone che lasciano le loro case sono uomini donne bambine che si lasciano paesi dove c'è la guerra o dove c'è la fame la differenza tra migrante economico e migrante che scappa dalla guerra in quel caso è davvero una sottigliezza che non possiamo accettare i giovedì 29 giugno quarto appuntamento con la festa di avvenire il tema sarà altrettanto delicato famiglia giovani e lavoro assolutamente autorevoli le presenze in programma ci sarà innanzitutto il presidente della conferenza episcopale italiana il cardinal Gualtiero Bassetti poi ci saranno Vito De Filippo sottosegretario del MIUR Antonio De Caro sindaco di Bari Pasquale Lorusso presidente di Confindustria Basilicata e Rosario Altieri presidente dell'AGCI l'associazione dell'alleanza delle cooperative inoltre ci sarà anche la partecipazione di Gabriela Buffar argentina responsabile internazionale dei giovani dell'International Cooperative Alliance insomma ci sarà sicuramente tanto da ascoltare da condividere e per trascorrere una serata all'insegna della cultura della condivisione e di valori importanti sono i valori appunto che stanno segnando questa settimana qui a Matera della festa del quotidiano nazionale Avvenire Grazie 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 a tutti